Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Torresi, sono un commercialista di Civitanova Marche. Ho iniziato ad utilizzare Tueppi dal mese di dicembre 2017. Tueppi è una piattaforma che gira in web, che ti permette veramente di organizzarti al meglio la vita. Perché mi sento di consigliare Tueppi? Innanzitutto per lo strumento, un ottimo strumento che dà produttività, efficienza e ti dà controllo di ciò che stai facendo, sia te ma anche i tuoi collaboratori. Tueppi è interessante, ma anche fantastico, per la squadra di persone che girano intorno a questa piattaforma, a questa società. Sara, Egidio e tantissimi altri. Hanno un metodo, uno strumento di trasmettere le informazioni, anche farti capire come funziona il programma, veramente innovativo. È da utilizzare, lo consiglio vivamente e soprattutto è un'ottima squadra. Brava, continuate così. Un caro saluto a tutti da Civitanova Marche e Andrea Torresi.